Il governo taglia gli uffici postali, la Lega Nord che cosa chiede? Noi chiediamo, abbiamo chiesto al Presidente della Commissione Binagio di far intervenire immediatamente il management di poste italiane perché noi siamo convinti che il taglio di 500 uffici postali su tutto il territorio nazionale sia dovuto solo ed esclusivamente alla precondizione rispetto alla privatizzazione di poste italiane, della società poste italiane poiché tutti sappiamo che il servizio postale è garantito solo da contributi pubblici per cui è un servizio che non fa utile per quanto riguarda le poste italiane ma è un servizio sociale anche per i cittadini ed è un presidio assolutamente fondamentale. Per cui noi chiediamo a Poste che venga in audizione in Commissione Binagio a spiegarci per quale motivo sta tagliando i 500 uffici postali e chiediamo al Governo di intervenire immediatamente per evitare ancora una volta la cancellazione di un servizio che noi riteniamo assolutamente fondamentale.